La produzione della carta inizia con l'arrivo del legno allo stabilimento. La carta viene ricavata da una pasta costituita da un mix di 65% di acero, 25% di vetulla e il 10% di pioppo. Occorrono 2 tonnellate di legno per produrre una tonnellata di pasta. Tutto a inizio da questo tamburo scortecciatore, che rimuove la corteccia dai tronchi. È un'operazione che dura 20 minuti. La corteccia verrà bruciata per produrre il vapore necessario al lavoro del tamburo. I tronchi privi di corteccia vengono trasferiti da questo trasportatore. Ora i tronchi vengono ridotti in pezzetti detti anche chip. Questi vengono accatastati e lasciati all'esterno, sia d'inverno che d'estate. Queste cinque cataste costituiscono un totale di circa 30.000 tonnellate di legnetti. La prossima fase è quella di ridurre i chip in una pasta. Si inizia lavandoli. Questo schermo verifica che la lavatrice sia caricata correttamente. Poi è la volta della cottura alcalina. Quest'enorme cilindro è il contenitore in cui i pezzetti di legno vengono cotti per diverse ore, a una temperatura di 158 gradi centigradi. E questa è la caldaia di recupero. Brucia la lignite a mille gradi. Vengono recuperate alcune sostanze chimiche, o riescono fuse sotto forma di lava. Questo liquido nero, un residuo del legno cotto, verrà bruciato per produrre vapore. Uscendo dalla lavatrice, la pasta marrone viene sciacquata e mandata all'assottigliatore. Con questa spatola si verifica la qualità del lavaggio della pasta. La pasta deve essere sbiancata. Questa torre di estrazione alcalina la posiziona a contatto con sostanze chimiche. La pasta viene candeggiata con diossido di cloro e diventa gradualmente più bianca. Poi l'acqua viene parzialmente eliminata. Questa vite spezza la pasta in modo da poterla inserire nei recipienti di deposito. L'acqua viene estratta con questo macchinario, la macchina per carta della Belois, che lavora a una velocità di 1060 metri al minuto. Fra l'entrata e l'uscita, la concentrazione di acqua nella pasta scende dal 95 al 5%. Qui vediamo il foglio di carta che esce dalle presse. Analizzatori verificano i parametri di qualità della carta e segnalano eventuali anomalie. La carta viene poi arrotolata. Questo rullo produce enormi bobine principali. Con questo braccio di trasporto, una bobina viene rimpiazzata con una vuota. Un rullo pesa più di 35 tonnellate e contiene 60 chilometri di carta. Un macchinario taglia le bobine principali in rulli più piccoli e meno larghi. Alcuni verranno distribuiti così, mentre altri verranno inviati al tagliacarte. I rulli vengono spostati in un deposito automatico. Nel deposito sono conservati quei rulli che poi verranno tagliati. Robot guidati da rotaie sul pavimento alimentano il tagliacarte della bilomatic. È qui che si produce la carta da stampa. I robot sono controllati da un computer centrale, gestito da operai. La produzione arriva a 55.000 foglie al minuto. Quattro separatori automatici e quattro operai verificano la qualità della carta prima dell'imballaggio. In un'ora questo stabilimento ha prodotto 6.600 pacchi di carta da stampa. In un'ora questo Obrigante! In un'ora questo forte legate da stampa.